Pane realizzato e cotto in condizioni igienico-sanitarie da Terzo Mondo, conservato in luoghi cadenti e maltenuti, in spregio delle più elementari norme, a presidio della salute e della salubrità dei prodotti. C'era poi anche legna con chiodi e verniciata tra il materiale da ardere odoperato in alcuni dei 17 forni a cui oggi tra Napoli e provincia i carabinieri del comando provinciale hanno messo i sigilli nel corso di un'operazione a tutela della sicurezza alimentare che ha portato al sequestro di 3.200 kg di pane illegale. I controlli hanno interessato tutta la filiera dalla produzione alla commercializzazione. Nella mirina dei carabinieri sono finiti i venditori abusivi che soprattutto la domenica commerciano lungo le strade, i negozi di alimentari e anche i supermercati. Una cinquantina le persone denunciate per inosservanza alle discipline inerenti all'igiene, alla produzione e commercializzazione dei prodotti, molte anche le sanzioni amministrative combinate che finora montano a 40.000 euro. I forni sequestrati si trovano a Fratta Maggiore, Arzano, Pomigliano d'Arco, Santa Anastasia, Cerra, Brusciano, Castello di Cisterna e Giuliano in Campania, Villa Ricca, Sant'Antimo. Somma, Vesuviana e Torre annunziata, ma anche nella sanità a Napoli sono totalmente abusivi e in condizioni igieniche, sanitarie pessime.